Ci sono tante emergenze ma ci sono anche i fondi per tentare di contrastarle. Una battaglia che la Camera di Commercio delle Marche ha iniziato questa mattina dalla sua sede di Pesaro per un tour informativo a sostegno della conoscenza delle opportunità di sostegno alle imprese. Si comincia dal pesarese come uno dei luoghi feriti dall'alluvione. Un luogo che aggiunge dunque un'altra criticità al fare impresa. Informazione su bandi e fondi europee in primis che viene ora rafforzata dall'istituzione a Pesaro dello sportello Svem, ovvero la società sviluppo Europa Marche partecipata della Regione. Ripartiamo da Pesaro perché Pesaro per noi è quella sede dove le attività produttive in questo momento hanno delle difficoltà importanti con l'aumento dei costi energetici con purtroppo tutto quello che è stato l'alluvione proprio nelle ultime settimane e da qui volevamo partire con delle iniziative nuove, ovvero questa collaborazione che abbiamo messo in campo con il Presidente Santori della Svem, la partecipata della Regione Marche che tratta tutte le linee europee, i bandi e far sì che possano avere qui un ufficio di rappresentanza come Svem con del personale che su appuntamento possono poi dopo informare gli imprenditori. Oggi più che altro abbiamo notato che gli imprenditori hanno bisogno di informazione, vogliono essere resi edotti delle vari finanziamenti che ci sono in atto, finanziamenti che servono oggi più che mai per sviluppare quelle idee imprenditoriali che magari sono nello stato embrionale, stanno partendo e debbono essere messe in campo. I fondi ci sono, lo abbiamo sempre detto, dobbiamo essere capaci a sapere gestire al meglio la progettualità delle imprese. Il sviluppo Europa Marche è il braccio operativo della Regione, quindi noi oggi siamo qui per far capire, per costruire insieme alle imprese e ai professionisti quelli che saranno i prossimi bandi che stiamo appunto predisponendo. Quindi, come spesso dico, bisogna invertire la freccia, quindi non più bandi calati dall'alto, ma bandi che devono essere condivisi sui territori, con le imprese che rappresentano varie espressioni del mondo produttivo. Ovviamente l'evento di oggi serve per agevolare gli imprenditori, per rendere la possibilità di accesso ai bandi molto più semplificata, perché quando c'è una situazione di emergenza l'imprenditore non può perdere tanto tempo nella compilazione dei moduli, nel capire quali sono i bandi a cui può accedere e quali no. Quindi questo servizio di consulenza può soltanto agevolare in un momento così delicato le imprese e quindi io penso che la Camera di Commercio e le associazioni di categoria in questo momento, con questo progetto, rispondano pienamente alla loro mission. Abbiamo tanto da mettere in campo, dal PNRR, dal fondi europei, da tutti i fondi che arriveranno anche purtroppo da questa calamità che noi abbiamo avuto. Abbiamo subito scritto a Roma, all'Union Camere, nella veste mia di Vice Presidente Union Camere, proprio per avere delle risorse per questi territori. Il Presidente Prete lo ha messo nel primo comitato esecutivo che avremo lunedì, dove ci saranno dei fondi proprio destinati alle aree alluvionate delle Marche. Per le aziende alluvionate, la Regione Marche, rappresentata oggi anche col collegamento da remoto dall'assessore nonché neosenatore Guido Castelli, ha preparato un piano di agevolazione al creto, illustrati dal Confidi e tema del prossimo Consiglio regionale. Una prima iniziativa che abbiamo messo in campo con risorse importanti è quella destinata al pagamento degli interessi per la nuova liquidità per le imprese colpite dall'alluvione, per consentire loro di riattivare immediatamente quei macchinari che sono colpiti, sono stati colpiti. Quindi fino a 100.000 euro di finanziamenti gli interessi non verranno pagati e ci saranno due anni di preammortamento. Quindi il capitale non si paga, gli interessi fino a 100.000 euro saranno pagati dalla Regione e verranno spalmati appunto su otto anni.